Nicola Didonna, segretario della UIL Funzione Pubblica, oggi nuova mobilitazione qui agli uffici delle politiche sociali Molini e Marzoli. Come stanno le cose? Stanno male perché questa amministrazione ancora non ha capito come si gestiscono i servizi e qual è la popolazione che accede a questi servizi. Parliamo di una popolazione debole dove l'assistente sociale o che è addetto ai servizi alla persona instaura col cittadino un rapporto personale. L'amministrazione continua a dire bugie che non ci sono le risorse per poter prorogare i contratti. Parliamo di lavoratori che sono quasi vicini al diritto della stabilizzazione. L'amministrazione rischia di lasciare alla data del 1 ottobre, perché i contratti scadono il 30 settembre, i servizi svuotati senza personale. Ed è ingiusto che un'amministrazione faccia un bando tra l'altro messo in discussione ai fini della trasparenza ma anche delle procedure messe in campo perché era solo per colloquio e senza titoli, non riconoscendo quindi attraverso un accordo anche con le organizzazioni sindacali un punteggio per i 30 mesi di attività che questi lavoratori hanno dato al comune di Torre del Greco. Devono fare una sola gara, devono revocare tutte le gare che hanno fatto sul MEPA fino adesso e fare una sola gara per il triennio così come è legato al fabbisogno. Giuseppe Manfredi, rappresentanza della CISL Funzione Pubblica. Sono mesi che portate avanti questa vertenza, però purtroppo ancora senza risultati. Sì, veramente siamo disgustati da quando sta accadendo perché è veramente incomprensibile. Vorrei chiedere alla parte sana, come diceva anche il mio collega, di questo territorio, come è possibile pensare di lasciare queste persone che stamattina stanno qui senza servizi? Come si fa a negare un diritto sacrosanto? Perché questo è un obbligo, l'obbligo dell'assistenza. Io non posso pensare che dal 1 ottobre stiamo senza servizi. Questo veramente mi lascia basito, senza parole e questo è quello che mi angoscia di più. A parte poi tutto il fatto di una mortificazione professionale di lavoratrici, di professionisti che hanno lavorato anche col Covid senza mai risparmiarsi. Di quanti operatori parliamo? Allora parliamo di una decina di unità di personale socioassistenziale che però, detta così, può sembrare piccola, però è importante per il territorio perché poi ci rendiamo conto che quando loro mancano, effettivamente dentro la necessità la sentono. Il fatto che siano qui stamattina a protestare con voi è la dimostrazione. Certo, perché la cittadinanza ha bisogno di loro, si è creato un rapporto, perché gli ultimi creano un rapporto, hanno un disagio sociale, ma noi non possiamo pensare che chi deve aiutare gli ultimi è più ultimo degli ultimi, perché veramente viene una situazione di precarietà non indifferente e questa amministrazione non lo può ignorare. Carmela Russo, il comitato delle mamme, i ragazzi disabili oggi qui a Molini Marzoli a sostegno della protesta degli operatori sociali. I servizi sociali, se si fermano, noi siamo perduti, per noi è molto molto importante questo settore, siamo qua per questo, per dargli forza, sperando che le cose vanno avanti e non si fermano sempre. Che cosa significherebbe per voi famiglie restare senza questi operatori? Disagio a non finire, giustamente, perché noi facciamo proprio capo ai servizi sociali, noi famiglie con problemi, ma non solo noi disabili, tutte le categorie a rischio hanno bisogno, ma poi abbiamo bisogno di un servizio che duri nel tempo. Cioè rischiamo di brutto, rischiamo una paralisi generale di tutta Torre del Greco. Cioè rischiamo di brutto, rischiamo di brutto.